Buongiorno dal Tg1. Firmato il nuovo DPCM, la nuova stretta per contenere la pandemia durerà fino al prossimo 5 marzo. Da domenica 17 gennaio quasi tutta Italia in fascia arancione. È la prima volta per il Lazio. Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Solo quattro regioni in giallo. La decisione sarà formalizzata oggi con i dati del monitoraggio settimanale. I servizi sono di Giuseppe Rizzo e poi Giorgia Cardinaletti. I colori che cambiano sulla mappa dell'Italia segnano l'avanzare dell'epidemia nelle diverse aree del paese. Da domenica solo quattro regioni, Sardegna, Molise, Toscana e Campania, dovrebbero restare in fascia gialla, quella a rischio più basso. Lombardia verso il passaggio in zona rossa. Critico il presidente Fontana. I nostri numeri migliorano, non meritiamo il rosso, dice. È una misura penalizzante. Bergamo chiede una deroga, avendo 61 positivi ogni 100.000 abitanti. In zona rossa anche Sicilia e provincia di Bolzano. Tutte le altre regioni in fascia arancione. La decisione sarà formalizzata oggi con i dati del monitoraggio settimanale della pandemia. Intanto il presidente del Consiglio Conte ha firmato il nuovo DPCM in vigore da domani e fino al 5 marzo. C'è anche una zona bianca per le regioni con il livello di rischio più basso. Scatterase per tre settimane consecutive. Ci saranno meno di 50 contagi ogni 100.000 abitanti. Condizioni per ora assenti in tutto il paese. Tra le novità del nuovo DPCM, un'ulteriore stretta lamovida. Barre e commercio al dettaglio di bevande possono fare asporto solo fino alle 18.00. I ristoranti invece fino alle 22.00. La scuola ritorna in classe per gli studenti delle superiori ma al 50% e fino ad un massimo del 75% a partire dal 18 gennaio. Altra novità, la riapertura dei musei ma solo nei giorni feriali e solo nelle aree gialle. Resta in vigore ovunque il divieto di spostarsi tra regioni, anche tra quelle che si trovano in fascia gialla. Si potrà andare a casa di amici o parenti una sola volta al giorno e al massimo in due persone, eventualmente con figli minori. Le misure più rigide in fascia rossa, vietato ogni spostamento salvo che per motivi di necessità e salute, chiusi bar e ristoranti aperte, farmacie e supermercati. Confermato anche il coprifuoco tra le 22.00 e le 5.00 del mattino. Fino al 15 febbraio, vietato andare nelle seconde case che si trovano fuori regione, rimane la deroga sugli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e per una distanza non superiore ai 30 chilometri. Il Presidente del Consiglio